Questa sera l'ammutinamento del Bounty, un duo. Suburban Travelers, da Soberato. Cosa suonate? Il nostro è un viaggio ritroso nella musica rock. Partiamo dalle Zeppelin fino ad arrivare agli Stones, passando per il grande Bowie. Tu suoni o sei il cantante? Io, voce e chitarra. Io invece suono e basta. Mi chiamo Locanto, ma non lo canto. Questa sera, a parte questo ritorno del rock, questo vostro modo di suonare, cosa vi aspettate anche dal pubblico qui presente? Io l'anno scorso sono stato qui ospite con una monografia su Johnny Cash. Perché ho fatto un progetto dove suona esclusivamente Johnny Cash. È un punto di vista anche questo, anche quello di stasera. Perché bene o male credo che ogni grande canzone vada interpretata e poi vada data al pubblico per come uno la sente. Senza cercare di essere troppo simile all'originale. Dal pubblico io l'anno scorso sono stato benissimo. Il Bounty è un bel ambiente poi oltretutto. L'Arci che ogni settimana organizza questo amutilamento da tempo. Assolutamente. Io infatti stavo per dirti che voglio ringraziare innanzitutto l'Arci, ma voglio ringraziare Michele Scerra, che è un grande cantautura che ho avuto il piacere di ospitare anche in un locale assuverato e a cui mi lega una grande amicizia. Voglio salutare anche Emanuele Sestito che in questo momento è in quel di Napoli. Facciamo una domanda anche a te. Hai detto che sono vent'anni che non suoni e stasera riprendi a suonare? No, non ho ripreso questa sera. Ho ripreso un po' di tempo fa, però l'amico carissimo di Infancio mi ha chiamato per questo progetto nuovo, nuovissimo, è la seconda serata che facciamo insieme. E quindi ho ripreso così, con questo progetto di rivisitazione di cover rock, infatti in maniera acustica, un po' sgangherata, un po' violenta, un po' dolce. Cosa suoni? Chitarra. Una chitarra... Ovviamente acustica questa sera. Siamo in un plug, per cui... Assolutamente. Michele, questa sera ho un duo particolare all'ammutinamento del Bounty. Loro ci tenevano tanto, ti hanno già ringraziato in questa intervista. Sì, no, sono molto contento perché sono due musicisti storici, insomma, della scena rock calabrese. Se mai c'è stata una scena, di sicuro questi due signori sono due esponenti abbastanza importanti. Quindi stasera ci faranno sentire un po' di cose che ci piacciono, insomma, quella musica che in qualche modo non invecchia mai. L'ammutinamento cresce sempre di più e sicuramente cresce anche il pubblico che viene ad ascoltare e apprezza questa musica. Sì, siamo molto contenti. Questo è il quarto anno che stiamo facendo, insieme all'Arci di Crotone, la rassegna e sta crescendo da un punto di vista del numerico, insomma, viene seguito sempre di più e siamo contenti perché riusciamo comunque in questa maniera anche a proporre un calendario di qualità.